Ebbene sì, Scarpa l'ha fatto ancora e ha tirato fuori un altro modello veramente super prestazionale. Adesso insieme ne vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Ma iniziamo subito con la suola di queste Golden Gate ATR2, perché qui troviamo una suola presa proprietaria di Scarpa, la modello TRN07. È fatto con una mescola SuperGam ATR, che è una mescola molto simile a quella che troviamo su tante altre scarpe da linea TRN di Scarpa, ma un pochino più dura. Questo perché, essendo una scarpa pensata per correre anche su strada, ecco che una mescola SuperGam normale si sarebbe andata a consumare molto velocemente. Ma a livello di prestazioni, cosa cambia? La differenza maggiore la si trova soprattutto sul bagnato, ovvero che queste scarpe su bagnato, soprattutto su roccia bagnata, hanno un grip abbastanza basso. Un grip che, allo stesso modo, anche sul fango non è così eccellente, per via dei tasselli, ma soprattutto quello che è l'asciutto, asciutto sterrato, asciutto su roccia e via dicendo, non ha nessun problema. Quindi possiamo dire una suola durevole, sicuramente perché è un pochino più dura della classica presa, ma anche con un ottimo grip su tutto quello che è la parte di asciutto. Passando invece all'intersuola, qui troviamo un nuovo intersuola chiamato iRespond di scarpa. Innanzitutto queste Golden Gate hanno un drop di 4 mm, con un'altezza di 28 mm sul tallone e 24 sull'avampiede. E questa nuova intersuola iRespond non è altro che un'intersuola in eva a doppia densità. Nello specifico troviamo la parte a bassa densità, per darci tanto cushioning, che nella parte anteriore e posteriore della punta del tallone. In questo caso nella mia colorazione tutta la parte bianca. Poi troviamo invece tutta la parte azzurra, che è quella in eva ad alta densità. In questo caso un'eva che ci dà un'ottima reattività. Infatti con queste scarpe possiamo correre anche a 4 km, e vi assicuro che rispondono veramente molto molto bene, ma allo stesso tempo possiamo correrci anche a 6 km, magari per chi anche corre un po' di tallone, avendo comunque un ottimo cushioning. L'aspetto che poi mi è piaciuto di questa intersuola è che ci sono anche delle nervature laterali, che fanno sì che la scarpa possa deformarsi, che l'intersuola possa deformarsi, proprio per garantirci il maggior cushioning possibile. Passando invece alla parte superiore della tomaia, qui troviamo innanzitutto un puntale che è poco strutturato, un puntale che dovrete fare abbastanza attenzione, a non prendere entro le rocce o radici, perché in quel caso sentirete abbastanza male. Tutta la parte di tomaia poi invece è veramente molto traspirante, anche molto resistente. È la stessa tomaia che trovavamo anche sulla versione 1 di queste Golden Gate, e devo dire che anche in questo caso mi piace molto, veramente molto traspirante, e guardandola, sentendola anche a tatto, sicuramente molto resistente. Quindi da questo punto di vista è una tomaia che mi è veramente piaciuta. Parte di tallone qui, molto diversa da tante altre scarpe e altre running, perché abbiamo un tallone abbastanza destrutturato. È veramente poco strutturato, e questo farà sì che magari non è la scarpa ideale da utilizzare su del terreno tecnico. È una scarpa da utilizzare magari più su del terreno abbastanza semplice, battuto, in generale però è una scarpa che magari sul terreno tecnico può tendere a farci un po' scavigliare. Ma non ne farei un grosso problema, perché comunque non è pensato per quel tipo di terreno. Per tutta la parte di imbottitura è una scarpa veramente minimal. Imbottitura minimal come, allo stesso modo, è minimal anche la linguetta. Ma nonostante ciò, tutte e due le parti lavorano veramente molto molto bene, soprattutto perché poi la linguetta ha anche una parte un pochino più imbottita, proprio per proteggerci dai lacci. Infine i lacci abbastanza classici, fatti bene. Mi piace poi che insieme a tutta la parte di tomaia, calza veramente molto bene questa golden gate attorno al nostro piede. E anche quando si corre a dei ritmi molto alti, il piede non balla all'interno della scarpa. A livello di avampiede troviamo una calzata abbastanza normale. Non è né ampia né stretta. Diciamo che io ho preso il mio classico numero, che prendo di solito, di scarpa, e non ho avuto nessun tipo di problema. Arriviamo però a capire a chi consiglia di più di utilizzare queste golden gate ATR2. Secondo me sono delle scarpe adatte abbastanza a chiunque. Dall'atleta più esperto, che corre anche a 4 al chilometro, che ha bisogno di una scarpa bella reattiva, all'atleta magari meno esperto, più pesante, che corre lentamente. Secondo me queste scarpe sono ideali soprattutto anche per chi cerca una scarpa d'allenamento. Una scarpa magari con il quale un giorno fare un lungo lento a 6 al chilometro. Una scarpa con il quale magari un giorno fare delle ripetute lunghe a 4 al chilometro. Diciamo una scarpa veramente molto polivalente. E l'aspetto poi che mi è piaciuto è che questa è una golden gate completamente diversa dalla prima. Perché se la prima golden gate era molto più indicata magari per l'asfalto rispetto che il trail, ecco che con questa nuova ATR2 sicuramente è andata molto più vicino a una scarpa da trail rispetto a una scarpa d'asfalto. E infatti con queste nuove golden gate io ci farei tranquillamente anche delle gare trail con magari comunque dei sentieri semplici ma anche molto lunghe. E arriviamo alle conclusioni per queste golden gate ATR2. Iniziamo dal prezzo perché scarpa le vende a 165 euro sul proprio sito ma online si trova già attorno ai 140 euro. Ve le consiglio? Assolutamente sì perché l'ho trovata veramente un'ottima calzatura a tutto fare. Una scarpa che possiamo prendere e farci tutti i tipi di allenamento con il quale possiamo correre su tante superfici e soprattutto una scarpa che si adatta veramente a tanti tipi di corridori. E detto ciò ragazzi la speranza sia stato esauramente esotivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!